Musica Ciao ragazzi ben ritrovati di nuovo sul mio canale E si ragazzi oggi torniamo con Jurassic World 2 Ragazzi noi ci siamo lasciati nello scorso episodio Che avevamo fatto tanto Siamo andati in una nuova zona, in una nuova California Per poter fare altre cose Dovamo catturare dei dinosauri estremamente aggressivi Per alzare la valutazione del parco Avevamo cominciato a mettere già qualche strutturella però Gli abbiamo ancora a fare La campagna l'abbiamo quasi completata ragazzi Manca quasi il 10% abbiamo finito E poi ci daremo ovviamente alla moneta sandbox Ma dovremmo finire prima la teoria del caos Che riprendiamo le parti più belle Inerenti ai film di Jurassic Park e di Jurassic World Ragazzi intanto grazie ancora per il supportazzo Che mi state dando Intanto ragazzi noi bando alle ciance Andiamo a fare Andiamo a caricare la nostra partita Vedete eravamo in California Avevamo fatto già qualcosina Avevamo ricercato le strutture Diciamo I ricinti di qualità media Perché Qua ragazzi Avevamo Vedete io già avevo fatto qualcosa Avevamo fatto uno scorso episodio Avevo messo già questo Questi due ricinti Avevamo già catturato qualcosina Avevamo fatto Aspetta ragazzi Facciamo il pieno A queste due cose qua Avevamo già Avevamo messo già queste strutture Un po' Avevamo già cominciato a fare qualcosina Poi comunque ci avevamo salutati lì Allora dobbiamo curare questo Dinosauro Che è stato curato Da quello che vedo Quindi deve essere trasportato Ehm Assegno scienziati Fammi vedere Quindi due Due E uno Vai inizia attività Ok ragazzi Così cureranno Il nostro dinosauro E poi Lo rimettiamo in gabbia Per poi ragazzi Continuare a alzare La valutazione del nostro parco Qui in California Ehm Vedete Avevamo già Di questi Qua Questo richiede un controllo medico Nel frattempo Che stiamo curando Il nostro Dinosauro Possiamo prendere Ehm Nostra unità mobile E possiamo andare a vedere Un attimo Che cosa hanno fatto Quei due dinosauri Il dinosauro Quello che sta Che sta curando Ragazzi Aveva una Una zamba fratturata Comunque qua È una zona un po' Troppo montuosa Come potete vedere Oddio Si è buttato È matto Quello A popolare Noi siamo matti Però Comunque Allora Dove stanno i dinosauri Che dobbiamo controllare Ok Questo Non c'è Nulla Quell'altro Ok ragazzi Questi Stanno in perfetta salute E Niente Abbiamo fatto questo controllo medico Anzi Aspetta Aspetta Mi sa pure quelli Vanno controllati Andiamo Andiamo anche all'altro All'altro recinto Andiamo a controllare anche Intanto che curano Quell'altro Poi Ci si mette tempo Ok Andiamo a controllare anche Permesso Messo Vedi Questi sono i recinti Di livello medio Attenzione Cioè che fa Prima si buttava Non si butta nessuno Allora Eh questi Ragazzi Guardate come sono più Attrezzati Qui i recinti Guardate Sono più Cazzuti Allora Dove stanno Ok Quello è stato Completato Dove stanno Sti dinosauri Eccolo Si sente solo Vabbè Non è una malattia Se si sente solo Dove sta l'altro Boom Che cazzo abbiamo preso Dove sta l'altro L'altro dove sta Ah stanno tutti Quando il laddio Ok Aspetta Aspetta Dobbiamo andare Stanno tutti qua giù Stanno Eh raga Per forza Dobbiamo Dobbiamo controllarli Ci stanno attaccare Ce l'ha spaccata la macchina Ok Vabbè Si sente solo Non è una 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 scusante Intanto la macchina È sotto attacco Vabbè Tornerà da solo Allora intanto Possiamo portare Il Dinosauro curato A In gabbia Eh ok Quindi Trasporta Il Lo trasportiamo Qua Ok Perfetto E niente ragazzi Allora nel frattempo Eh noi possiamo Mandare gli altri A fare la Cattura Vi ricordo Dinosauri Eh carnivori Quindi Eh questo Ah bellissimo Questo esemplare Molto bello Ci mandiamo Loro due Vai E nel frattempo Che vanno alla ricerca Noi ragazzi Facciamo un altro Ricinto Ovviamente Possiamo sempre farlo qua Sfruttare comunque Tutta questa cosa Che abbiamo qua L'ho fatta apposta Sfruttiamo un po' Tutto il paesaggio Che ci Che ci Che ci porta Vedete abbiamo Il ricinto di livello Medio Quindi facciamo Questo lo possiamo Anche attaccare Volendo Che tanto Comunque Tanto sono Dinosauri Estremamente piccoli Quindi Non richiede Grande Diciamo Ricinto abbastanza Grande Insomma Va bene pure così La porta la mettiamo Sempre qua Ok ci facciamo Un sentiero A meno che collega A meno facciamo una cosa Fatta bene Poi Facciamo una cosa Questo qua Lo possiamo mettere Anche Qua volendo Questo serve Per aumentare La valutazione Nel parco Ragazzi Senza queste Ah guarda che sfiga Tac Eh ragazzi Qua è tutto studiato È tutto studiato Qua abbiamo anche spazio Per mettere anche un generatore Però ma il generatore Comunque C'è Rifornisci Fa il pieno Ovviamente Perché ragazzi Abbiamo le strutture Un po' più Diciamo Medie Quindi consumano Molto più energia E i generatori Consumono Poi abbiamo anche Tante strutture Ok quindi Allora Quello abbiamo trasportato Richiede controllo medico Vabbiamo Facciamo una cosa Nel frattempo Noi ce la mandiamo Il controllo medico Dove sta È tornata La base Facciamo fare Un controllo medico Anche se L'ha appena fatto Però Noi comunque Diamo un controllo medico Comunque Eh pure io Sto fa fare Giri strani A sto coso Eh guarda qua E si fa fare un giro Estremamente incredibile Tanto tra poco Ci porteranno Anche la I nuovi dinosauri Boom Aspetta Aspetta Arriva Arriva Eh sì Perché quello È stato portato Ma richiede Un controllo visivo Anche se è stato curato La zamba Aveva una zamba Fratturata Però Richiede Un controllo medico Eh ma dove sta Fammi vedere Dove sta Eh trasmissione in arrivo Sapevo io Sei ne hanno catturati No vabbè Trasportiamoli Aspetta un attimo Dai Qua 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 No questo abbiamo fatto Prima Dove sta Questo Questo qua Ok perfetto Ragazzi Abbiamo controllato Tutti Intanto guardate Qua stanno Vabbè qua C'hanno bisogno Il controllo Dei guardiani Controllo medico Qua poi faremo Tutto Ma intanto Dove Stanno i guardiani Andiamo Andiamo con i guardiani Scusatemi Messo Eh qua è una zona Bellissima Boom Diciamo Questa musica Country Sotto Oh oh Porca miseria Sempre qua Non c'è niente da fare Questa è una stata maledetta Scusate Maledito Quell'altro è maledito No che cazzo ho fatto Ma Oh Ma che cazzo Dove vai Dove vai Sbagliato Andiamo Andiamo Eh dobbiamo pure controllare Un po' questi qua Ma dopo Che facciamo ragazzi Ma andiamo Poi lo so io Cosa ci dobbiamo fare Allora Questi a caso Questi sono pericolosi Scoperta malattia Addirittura Ok Eh questi mi sa che sono malati Un po' tutti quanti Eh si dobbiamo Ma cazzo stanno gli altri Ok Ok tutti L'abbiamo controllati Ma che Ma che hanno rotto il recinto Ma come hanno fatto A rompere i Ui Ma come cazzo hanno fatto A rompere il recinto Ma come Ma come fanno A rompere il recinto Dai su Mo qua Eh Allora Eh si perchè dobbiamo Mettergli l'acqua Si stanno già a nervosire Allora Mettiamo l'acqua E mettiamo il cibo Ok Vediamo il comfort Come salirà Comfort salirà Quindi Eh Però che cosa hanno bisogno Ancora del comfort Foresta Hanno bisogno di foresta Ok Allora Eh la foresta Un po' tutti gli animali Ci hanno bisogno Un po' di foresta Ok Penso che vi vada bene 74% Hanno bisogno di foresta Ancora Ancora tanta foresta Hanno bisogno Ok 80% Penso che il comfort Vada bene Eh però Hanno C'hanno una malattia Malattia non diagnosticata Quindi dobbiamo Portare il nostro Ambulatorio medico Età medica E vedere un attimo Cosa hanno Eh Vabbè si stavano Innervosi Perché non avevano il cibo Ragazzi Scusatemi Eh perdonatemi Non avevano il cibo E acqua È normale che si Innervosiscono gli animali Però Dobbiamo anche far riparare Quella recinzione Perché lasciarla così È un po' Eh quelli sono Estremamente Aggressivi Eh Estremamente aggressivi Questi 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 dinosauri Risorsa controllata Ah la rabbia Hanno la rabbia Bisogna curarli Eh Quindi dobbiamo Dobbiamo ricercare la La cosa Ok Quindi hanno tutti la rabbia Ok Allora Perfetto ragazzi Dobbiamo ricercare La rabbia Perché se no Spaccano tutto Questi Allora Facciamo così Andiamo qua Mostra ricerca Medicine Che cos'è questa No La rabbia qual è Ma già ce l'abbiamo La cosa per la rabbia Ah ma è bloccata Scatto una foto Il dinosauro Affetto di rabbia Ah ok Dobbiamo scattare una foto Aspetta Fermi Fermi tutti Fermati Fermati Fai una foto Fai una foto Dove sta Ok Invia Quindi ok Ricercare completato Elementi quindi Aspetta Quindi abbiamo una cura Aspettate un attimo ragazzi Abbiamo una cura quindi Abbiamo fatta la foto Abbiamo una cura quindi Aspettiamo Aspettiamo un po' Quindi abbiamo Ah la cura C'è stata Sbloccata Allora fermi Fermi Allora fermi Vieni qua tu Controllo diretto Dai cura Cura sti Cura sti Semblari Dai Colpito Ok Quindi Oh Così a meno Non si No Non spaccano più Questi Ricinti Andiamo Andiamo Eh si Dobbiamo curarli tutti Eh lo sapevo io Che questo lo rompevamo Spera Ragamo Dobbiamo Dobbiamo Addormentarli tutti Dobbiamo addormentarli tutti Ok Dove sta l'altro Ok Ok raga dobbiamo far riparare un attimo sta recensione qua E poi Eh E poi Dobbiamo surmista A cura Perché Se no fanno i macelli Scusatemi Ok ragazzi Andiamo prima A riparare quello là Eh questi sono Ragazzi C'hanno C'hanno la rabbia E quindi Quindi in questi casi Spaccano tutto Allora Facciamo una cosa Facciamo portare Sto dinosauro Ok Allora Raga Prima che stanno Che stanno ancora dormendo Facciamo una cosa Riprendiamo Uomo questo Già è tornato al suo posto Dai dobbiamo andare a farli curare Curiamoli prima possibile Prima che si svegliano Ne abbiamo curare ancora due Due già li abbiamo fatti Eh sì Perché ci hanno la rabbia Quindi in questo caso Sono molto aggressivi Quindi dobbiamo curarli Via via Presto presto Comunità mobile si deve muovere Dai 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 Sì sì Me Oggi un po' è così Questi episodi Jurassic World Ragazzi Tanto stanno tornando i guardiani Eh ma guarda Che siete proprio Intelligenti Eh Ok Poi faremo una cosa Metteremo delle cabine Per osservazione Così i guardiani Vanno Controllare un po' tutti Ok Se mettiamo lì Possono anche riparare Eventuali Diciamo Eventuale cose Qua non sa Spacca tutto Spacca porca puttana Ok Quello è stato curato Quello è stato curato Abbiamo anche altri dinosauri Che non sono stati curati Ok Quindi Eh Diciamo che Ok Aspetta raga Facciamoli svegliare Un po' tutti Aspetta raga Facciamoli svegliare Qui vediamo Chi Chi dobbiamo curare Un attimo Eh Rimettiamo Quelle Quella persona Che aveva Che c'è Quelle Quel Quel dinosauro Che avevamo Perché se stanno dormendo Non ci segnala Chi sono da curare Praticamente Quindi Ma facciamo fare Stasorte di Spostamento Lendos Tanto due Ne abbiamo curati Mi sa Tre ne sono rimasti Da curare Comunque Ok In danno Possiamo fare Dentro ci possiamo Entrare Comunque Allora Questo è stato Curato Perfetto Questo pure Ok Ok Questo è stato pure Curato Ce ne manca uno Ok Perfetto Sono stati tutti curati Ok Perfetto ragazzi Abbiamo i esemplari Perfetti In condizioni Adesso facciamo una cosa Però Operatori No Qua Noi ci mettiamo Questa qua E una Poi ci mettiamo Questo E lo mettiamo Uno qua E uno Lo mettiamo Al controllo Di qua Perfetto Adesso prendiamo I nostri guardiani Facciamo Aggiungi attività Qua Qua Eh no Scusami Qua E qua Perfetto Così almeno Ragazzi Vanno a dare Un controllo Un po A tutti I nostri dinosauri Allora Possiamo Continuare A fare La ricerca E alzare La evoluzione Del parco Quindi andiamo Questi Uh bellissimi Quindi ci mettiamo Uno e due Vai pure loro Quindi mandiamo anche gli altri Alla spedizione Ragazzi E poi continuiamo sempre Ovviamente A metterli qua I recinti Qua abbiamo un bellissimo spazio Che possiamo utilizzare Quindi possiamo fare Possiamo fare Già la stradina Che ci può portare lì Io raga Direi di mettere Un altro generatore Perché comunque Eh richiede Un altro generatore Qua Così almeno Da più potenza Anche a tutte le cose Perché ragazzi Almeno Abbiamo anche La sorte dei guardiani Che vanno a controllare Di routine Un po' Tutte Le gabbie Quindi controllo Un po' Se i dinosauri Stanno bene Se ci sono eventuali Vedete Tipo qua Eventuali cose rotte Le sistemeranno Penso Penso Quindi Ci saranno Una Sistemata Noi nel frattempo Ragazzi Possiamo fare Ci possiamo costruire Un altro recinto Ovviamente Partendo sempre Da qua Ovviamente Dobbiamo sfruttare Un po' Tutto quello Che Il parco Ci da Ma io direi Va bene Pure così Abbiamo fatto Pur estremamente Grande Ok Ci mettiamo La nostra porta La porta Svolta La mettiamo Qua Ok Eh Aspettiamo Che Che si Costruisce Ovviamente Facciamo anche Una sorte Di Strada Così almeno Diciamo Tanto Qua ci Dobbiamo Mettere Ragazzi Questo Che comunque Farà Aumentare La votazione Del parco Ok Così E qua Raga Io direi Di metterci Un altro Generatore E infatti Non ci sono Generatori Abbastanza Eh si A meno Mettiamo anche Un altro Generatore Diamo più Potenza Anche a Questa A questa Zona Perfetto Ragazzi Ma andiamo Avanti Aspettiamo Che arrivano Altri Altri di Non so Intanto i guardiani Stanno controllando Un po' Tutto Tutte le gabbie Ovviamente Richiede controllo Medico Addirittura Dobbiamo fare Un controllo Medico Aspettiamo Un attimo Ragazzi Il controllo Medico Non so Non so se possiamo Anche dargli Al controllo Medico Aspetta Mi sa che c'era Anche un Aggiungi Attività Si Allora Vai qua Vai qua E vai qua Ovviamente Ragazzi Almeno Vi facciamo Anche un controllo Medico Otto Dinosauri Sono stati Catturati C'è una miseria Otto Allora Abbiamo fatto Bene a Metterla Abbiamo fatto Bene a Metterla Allora Abbiamo fatto Bene a Creare Allora Questa Questa Gabbia Ragazzi Così Grande Abbiamo messo Anche un controllo Medico Quindi Sia i guardiani Che quelli Vanno andando a Controllare Ragazzi Fanno qualcosa Abbiamo tutto Un po' sotto Controllo Insomma I dinosauri Però Vedi qua Però La recensione Non l'aggiustano Dove Stiamo I guardiani Dove sono Mi sa che li avevo visti qua Ok Vabbè Mo ci hanno anche Mo dobbiamo Tanto Mo ci dobbiamo Prendere noi I guardiani Allora Qua richiede anche Un controllo Medico Perfetto Allora Intanto Facciamo una cosa Eliminiamo anche Un po' di Di alberi Aspettate un attimo Perché se no Cioè Non si vede un cazzo Intanto Poi dopo Nel caso Ce 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 li andiamo A rimettere Un po' Di Pure qua Vicino alla porta Li eliminiamo Un po' Ok Allora Mo facciamo Ci mettiamo L'acqua Ovviamente L'acqua è quello Che A dinosauri Serve E mettiamo E mettiamo Ovviamente Le predeli Le mettiamo Vicino all'acqua Le mettiamo Qua Per il momento Almeno Non si scappa Allora Adesso richiede Un controllo Medico Quindi Dove sta La gippetta Allora La gippetta Un attimo Dammi un attimo A me Andiamo a vedere Prima cosa Vogliono E' bello Che ci hanno Inserito In quest'ultimo Aggiornamento Chi è? Che hanno Spaccato Che cosa Hanno Spaccato Aspetta Ragazzi C'è un piccolo Problema Che cosa Hanno Rotto Dove sta Rotto Ok Aspetta un attimo Un attimo Arrivo subito Eh Qua i guardiani C'hanno un po' Da fare Ragazzi Ok Abbiamo riparato Vabbè Andiamo a vedere Un attimo Cosa vogliono Quelli nuovi E poi Ovviamente Tanto ragazzi Abbiamo quasi raggiunto Lo scopo è arrivare A 3300 Quindi poi Ce l'abbiamo quasi fatta Andiamo a vedere Un attimo Cosa Uh Il comfort 91% Ragazzi C'è proprio Ormai Ok Andiamo a controllare Quello di questi di qua Ok ragazzi Abbiamo controllato Questi Ma facciamo una cosa Qua ci mettiamo Un'altra Un'altra Questa qua E facciamo Che a meno Vanno a controllare Anche Questa zona Qua Aggiungi attività Qua Aggiungiamo L'attività Anche Dove sta Dove è andata Dove sta L'unità Mobile Dove sta l'unità Quella che controlla È tornata a posto Ma scusami Allora Aggiungi Qua E aggiungi Qua Questo nuovo Vai A meno vanno a fare Vanno a fare I controlli Medici Perché questi Vedi Ci ha bisogno Di un controllo Medico Come sta qui Ragazzi Controlliamo Però noi La cosa Lo scopo principale È aumentare Il livello Del parco Allora facciamo Intanto facciamo Ragazzi Salvataggio Eh si Un piccolo salvataggio Ok E noi ragazzi Ci possiamo Salutare qui Quindi torniamo Al nostro menu Principale Ragazzi Possiamo saluto Io abbiamo fatto Tanto anche In questo episodio Di Jurassic World Evolution 2 Ragazzi Stiamo andando avanti Quindi la California L'abbiamo quasi completata Ragazzi Manca poco Manca poco Di votazione Quindi altre due catture Secondo me Ce l'abbiamo fatta Stiamo tenendo sotto controllo La salute E il benessere Degli animali Ragazzi Grazie ancora Di essere stati con me Spero che questo video Vi sia piaciuto Veramente ragazzi Spolliciate in su Guardatevi di questo video Iscrivete al canale Attivate la campanellina Per non perdere mai nulla Ragazzi In descrizione tutti i link Sono gratuiti Non vi costa nulla Ragazzi Ci becchiamo nei prossimi video E like qui sul mio canale O sul tubo viola Che ovviamente Tra le attività di iscrizione ragazzi Grazie ancora di essere stati con me Noi ci becchiamo Alla prossima Ciao a tutti ragazzi